Per me è un onore oggi essere qui. So dove sto venendo, so che vengo da una società dove l'anno scorso ho avuto la sfortuna di venire in Serie B, quindi mi aspetto un ambiente non facile, ma non mi spaventa niente allo stesso momento. Se oggi sono qui ho accettato perché ho parlato con Fusco attraverso ovviamente il volere del Presidente e penso che mi ha trasmesso molto entusiasmo, molta voglia e questo è quello che ho io. Penso che sia importante riportare la gente allo stadio, credo che questa cosa sia fondamentale e per far questo sì ho molta fiducia nel mio lavoro, nel lavoro che posso dare a questa società, quindi per quello dico che non mi spaventa niente. Noi avremo un campionato molto lungo e penso che l'obiettivo sia andare partita a partita. Noi dovremo andare ora in ritiro, lavorare e prepararci al massimo per la prima partita. Sono molte finali dove noi dovremo prenderle come lo sono o come lo saranno per noi, è finale. Quindi l'obiettivo secondo me è andare partita a partita. E questo si deve vedere subito in campo perché poi quando io ho detto precedentemente che uno deve cercare di portare la gente allo stadio, quando dico questo dico che uno che va e si siede allo stadio, un tifoso del Bologna deve vedere una squadra che ha voglia, che ha entusiasmo. Un giocatore che perde palla la va a recuperare e si propone per andare e guardare la porta davanti attraverso il gioco, in cui credo molto perché per arrivare alla porta avversaria bisogna cercare di giocare calcio e quindi io sono disposto a questo. Secondo me il Bologna come tifoseria, lo hai detto tu stesso, che non merita di essere in Serie B ma il problema è che oggi questa società, questa squadra, questi tifosi sono in Serie B. Quindi è una opportunità bella per cercare di far bene, ma non solo per me, se no per venire a far bene in una società, in una squadra, una società che oggi ha dei problemi ma è una società che allo stesso tempo vuole far bene. Quindi questo è stato trasmesso a me e quindi io questo voglio fare attraverso il mio lavoro perché so che sono venuto in una società dove anni fa ha vinto degli scudetti quindi è una società importante in Italia.